La nostra penultima diretta qui da Sanremo, postazione OVS, grazie al direttore Vito Ciasca, torniamo domani, domani studiamo, domani diremo anche una cosa che ti riguarda, e ti riguarda anche il festival di Sanremo, va bene? Fai quello che vuoi, se tu la patola di casa puoi fare quello che ti può, va bene, dovremmo in realtà salutare e ringraziare tutta la squadra tecnica che è veramente tantissimo, sono tanti, siamo quasi in chiusura, due su tutti, l'intenazione che è responsabile di questa esterna, Gigi Reista che è il regista, Gigi Reista, è una prova del regista, ok, ok, d'accordo, Gigi Reista che ha visto che Camirona che ha fatto, è che si deve fare il regista a Sanremo, Gigi Reista, diventerà amministratore delegato di NL126, e Andrea Triani per la regia IRN, ma stasera mi porti fuori, stasera ti porti fuori, il RioTel e il Tokyo Hotel, purtroppo stanno ancora provando, esatto, il Tokyo Hotel, se ormai non ci sentite in onda, avete capito perché, va bene? Va bene, non c'è problema, non ti spaventare quando li vedi che sono tutti dei capelli veramente, che sono alti, eh, li conosco prima, ah, li conosci, eh, li conosco prima, ah, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, allora, Francesco Pacchinetti, Sì, mi Grazie.